Sì, buonasera e grazie come sempre a TV Centromarche presente alle nostre serate, ai nostri eventi. Questo è il sabato latino targato Lati Style, questa è la situazione del baladì, Lati Style e la Tropical Stuff. Noi siamo sempre presenti qui ogni sabato, questo è il mio staff latino, il staff Lati Style, la partita dal DJ, l'animazione. Io vi invito a tutti ogni sabato ad essere presenti qui con noi e mi raccomando, parola d'ordine Lati Style, baladì, disco village. Vorrei passare la parola a colui che comanda la parte della musica nelle mie serate, un saluto a Maurizio e poi a Luis. Buonasera, questa è la sala tropicale del baladì dove si fa una serata classica, salsa, baciata e merengue. Con Luis, Luis de Cuba, capo animazione del Lati Style, balli di gruppo e poi abbiamo sala chizombana e sala urban, sale bailando. E passo la parola a Luis, il nostro capo animatore. Allora a me mi tocca il compito di sostenere ai ragazzi dell'animazione, come potete vedere ogni sabato un successo inevitabile, un successo a 360 gradi, la nostra sala super latina, la tropicale, la baladì disco village, ogni sabato strappieno. Oggi accompagnati del Tribù Centromarche, ok? E noi siamo prontissimi, prontissimi come sempre, a offrirvi il meglio del meglio. Rimanete con noi, con il nostro luogo, i ragazzi Lati Style, insieme a tutte le scuole di ballo, insieme ai ragazzi della tropicale, insieme a tutti, 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 per una sola serata, una stupenda serata. Sabato notte, ok? La tropicale, la baladì disco village, noi siamo prontissimi, ok? Ci siamo, organizzazione Marco Mavio, la musica di Maurizio DJ, le foto di Sandro Pettinari e tutto il nostro complesso che vi accorgerà a 360 gradi. Saluto a tutti gli amici di TV Centromarche, questo è il baladì disco village, locale a più realtà, a più sale. Abbiamo la sala liscio, che questa sera è piena, grazie alla grande orchestra di Omar Codazzi. E poi tre realtà latine, un latin classic chiamato la tropicale. E poi abbiamo la sala bailando, che è un latino urban, e la chisombata, una realtà nuova, un mix tra suoni africani e ritmi latini, al ritmo di chisomba. Questa è una realtà che va avanti ormai da 12 anni, siamo a Torre San Patrizio, è un locale con un annesso ristorante, dove si può fare cena dopo cena, ogni sabato sera, invernale, diciamo da settembre a maggio. Siamo qui per intrattenervi, per farvi divertire in ogni vostro appuntamento. Grazie.